Un messaggio di amicizia e non di contrapposizione agli amici del calcio. Lo lancia la presidentessa della Gran Sasso Rugby, Loredana Micheli, che dopo le vicende del calcio scommesse che hanno sferato la società rosso-blu, fortunatamente non coinvolta, ha voluto inviare la propria solidarietà, ribadendo la convinzione delle stranetà del sodalizio del presidente Chiodi alla vicenda del calcio scommesse. Loro come noi, infatti, hanno puntato sui giovani e questo è importante, dice. Io credo che in una città come la nostra, che è completamente divisa, ci sono mille frazioni, forse lo sport dovrebbe servire di più a unire piuttosto che ad allontanare le persone. E soprattutto dobbiamo dare un esempio ai giovani, un esempio che lavorando insieme si possono ottenere dei ottimi risultati. Noi con l'Aquila Calcio abbiamo partecipato ad un progetto immediatamente dopo il terremoto, Giovani per l'Abruzzo, finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e all'epoca proprio si lavorava per la crescita sociale dei bambini senza badare a che tipo di sport si scegliesse, insieme ad altre due società, naturalmente all'Aquila Basket e all'Aquila Rugby. Quindi io credo che delle società che hanno lavorato insieme per un motivo così importante debbano sostenersi a vicenda.